Si profilerebbe una soluzione di carattere politico nella lunga riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che è tuttora in corso a New York. L'Italia è determinata a contribuire alla stabilizzazione della Libia, al traverso il dialogo sponsorizzato dall'ONU ed è pronta ad assumerne un ruolo guida, lo ha detto in Consiglio di Sicurezza il rappresentante italiano Cardi. Intanto continua sul fronte della sicurezza gli arresti. Una donna di 25 anni di Birmingham è stata arrestata all'aeroporto londinese di Heathrow con l'accusa di terrorismo. Lo riprisce la CNN dicendo anche che la donna era appena scesa da un ruolo proveniente dalla Turchia e ritengono gli investigatori che la stessa provenga dalla Siria.